www.feyyaz.tv mentre adesso dopo il corso di psicoedizione di circa tre mesi fa e un corso di coaching anche il percorso di coaching di 21 giorni con il mitico rosario mancuso mi hanno davvero sollevato mi hanno cambiato davvero la vita sono una persona molto sorridente addirittura sono diventata anche troppo chiacchierona per uscire da una gabbia di pensieri di giri di parole e per diciamo per riuscire a esprimere sempre quello che voglio nel momento in cui voglio il corso di psicoedizione l'ho fatto online e secondo me questo è stato un vantaggio è un corso che davvero mi ha cambiato la vita il rugby mi ha fatto caricare nuove amicizie e mi ha aiutato anche con la balbuzia perché ho trovato degli amici che non mi giudicano ancora più sicurezza con gli sconosciuti perché ho fatto chiamate ed esperimenti fuori e sono andati molto molto bene con psicoedizione invece abbiamo scoperto una nuova tecnica basata su dei semplici strumenti che ci sono stati insegnati nel loro utilizzo e che attualmente flavio applica poi di veramente in questo modo riuscito ad acquisire la sua libertà di comunicazione per lui è stato un grande successo soprattutto perché adesso riesce a parlare liberamente a comunicare con tutti grazie a tutti grazie a tutti